Musica Oggi in comune due premiazioni davvero particolari. Sindaco De Martinis, qual è il significato? Entrambe le premiazioni racchiudono un molto significato, sia da un punto di vista sportivo, sia da un punto di vista premiante per il nostro territorio. Intanto parliamo di due eccellenze, nella misura in cui Verena è arrivata terza ai mondiali in Cina di Triathlon e Andrea Silvestrone è arrivato primo a un torneo internazionale di tennis in carrozzina. Tutto questo per dire che intanto certi traguardi non si possono che raggiungere con determinazione, con passione e con tanta volontà e tanto allenamento. Nel caso di Andrea tutto questo assume un significato ancora più grande se pensiamo che lui ha fatto della sua visibilità una forza, portando in alto il nome di Montesilvano e raggiungendo dei traguardi che a tutti, soprattutto in determinati periodi in cui ha avuto grandi problemi fisici, sembravano in spedizioni raggiungibili. Nel caso di Verena invece, quando parlavo di elementi premianti per il nostro territorio, Montesilvano si è rivelata un territorio utile e importante per la preparazione di uno sport particolare come il triathlon. Verena, che non è originale di Montesilvano, stamattina ha ribadito questo e soprattutto si è manifestato il suo gradimento per il nostro territorio, dove vive da tre anni e dove ha dichiarato di trovarsi molto molto bene. Montesilvano, città ospitale, sono due grandi atleti che non sono originari di questa città, però lo sono voluti diventare. Non solo lo sono voluti diventare, ma oggi a pieno titolo si sentono montesilvanesi a tutti gli effetti e come dicevi benissimo sono felicissimi di tutto quello che hanno trovato e per noi è motivo d'orgoglio, come motivo d'orgoglio è ancora una volta far conoscere la nostra Montesilvano a tutto il mondo, diciamolo pure, da un punto di vista sportivo. È sempre più sede di eventi importanti e internazionali e su questo elemento noi vogliamo, dall'inizio abbiamo puntato e vogliamo puntare per il futuro e stiamo facendo tutto il possibile affinché questo elemento possa essere premiante. Andrea Silvestrone e la sua coach Bruna Dal Benzio, intanto parliamo del significato che riveste questo premio per il diretto interessato. Questo premio è una grandissima soddisfazione perché come ho detto prima rappresenta non soltanto il coronamento dei risultati che si stanno susseguendo ma soprattutto il riconoscimento di tanto affetto che io riscontro ogni giorno da parte della comunità montesilvanese e da parte di questa pubblica amministrazione che posso dire mi vuole e ci vuole veramente molto molto bene. Per cui tornare a casa e sentirmi veramente a casa a Montesilvano e sapere che porto Montesilvano e tutti quelli che mi vogliono bene in giro per il mondo è una soddisfazione che mi riempie veramente di grande orgoglio. Bruna Dal Benzio, che torneo internazionale ha vinto Andrea Silvestrone? Allora qui c'è la doppia soddisfazione perché Andrea ha partecipato a uno dei tornei organizzato dal coach di Serena Williams, quindi tutti quanti conosciamo, è Patrick Moratoglu e quindi ha un'importanza notevole perché Andrea si è confrontato con i primi al mondo, gli stessi che poi man mano battendoli prenderà lui il loro posto, sperando di arrivare magari tra i primi dieci, ma quello ce l'auguriamo perché il lavoro che stiamo svolgendo è proprio mirato allì. Insomma Tokyo sempre più vicina? Sì dai, sempre più vicina, step by step, piano piano ci arriviamo. Sì dai, sempre più vicino.